Conoscete il grafene? È davvero un materiale geniale, composto da uno strato di atomi di carbonio. Ma è ancora più geniale il modo con cui è stato scoperto da due scienziati russi. Come fecero? Utilizzarono un semplice nastro adesivo, una matita in grafite e un foglio bianco. Guardate come! Con la matita in grafite fecero un disegno come questo sul foglio bianco. Poi presero il nastro isolante e lo fecero aderire al disegno, asportando poi una parte di esso, così. E poi continuarono con questo procedimento, sfogliando strato dopo strato e ottenendo pochissimi strati di atomi di carbonio. Davvero geniale! Come vedete per fare innovazione non servono grandi risorse, ma grande creatività. I due scienziati per la cronaca vinsero il premio Nobel per questa invenzione.